Migliorano le condizioni dei 14enne che ieri sera, martedì 12 aprile, è caduto nel vuoto a causa della rottura di un lucernaio. L'adolescente, dopo aver trascorso una notte in ospedale ricoverato nel reparto di pediatria, nelle prossime ore potrebbe essere dimesso. Gli esami effettuati subito dopo la caduta e ripetuti oggi non hanno dato esiti preoccupanti, da qui la decisione dei medici di rimandarlo a casa. Intanto i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto martedì sera intorno alle 19.30. Secondo una prima e parziale ricostruzione, i 14enne e la sorellina di qualche anno più piccola stavano giocando in un piazzale a lato della farmacia comunale, dove la madre era entrata per acquistare dei farmaci. Area in cui sono presenti anche delle cupole lucernaio. E proprio una di queste, forse a causa del peso dell'adolescente, ha seduto i 14enne e caduto nel vuoto. Un volo di 3 metri e mezzo, poi è atterrato pesantemente in un magazzino sottostante. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, poi 118 e infine i vigili del fuoco che hanno aperto il deposito. Il ragazzino, vigile, è stato quindi trasportato in ospedale, ma già da ieri sera non pareva che avesse avuto conseguenze per la caduta. Grazie a tutti.